Spopolamento, una parola che solo a pronunciarla mette paura. Ancora di più a provocare spavento sono i numeri. Circa 4.000 molisani ogni anno lasciano la regione un fenomeno da arrestare creando opportunità sul territorio che consentano soprattutto ai giovani di restare in Molise. Più misure e sostegno per le piccole e medie imprese, dice il candidato del centrodestra alla presidenza della regione, Francesco Roberti. Oggi hanno bisogno di liquidità le piccole e medie imprese ma soprattutto hanno bisogno di ripartire perché la ripresa economica c'è, il costo e l'aumento delle materie prime a sua volta va a verificare tutto quello che può essere oggi l'opportunità per le nostre imprese di avere non solo una brillante ripartenza e mettersi sul mercato e occupare fette di mercato ma questo garantirebbe anche l'occupazione. Quindi oggi più di prima la regione ha bisogno di essere presente con misure precise e puntuali che vadano ad incidere sul bilancio di queste società. Non può esserci sviluppo senza infrastrutture. Roberti punta sui collegamenti tra distretti industriali e sul collegamento Termoli-San Vittore. Il futuro ci attende soprattutto nei cosiddetti consorsi industriali dove ci sono delle misure adeguate tipo le aree ZES che potrebbero essere appetibili per far sì che imprenditori da ogni parte del mondo vengono ad investire i loro impianti e le loro opportunità aziendali in questa regione. Questo è possibile però solo se noi facciamo le necessarie infrastrutture per collegare questi consorsi. Una piattaforma logistica che possa collegare questi consorsi e far sì che partendo da Termoli che può essere la porta d'Oriente fino ad arrivare a Venafro che può essere la porta di Occidente si va a collegare la 14 con l'autostrada del Sole. Sono le arterie principali dove si spostano merci e persone. Sono le arterie principali che collegano il porto di Napoli con il porto di Termoli. Solo così oggi possiamo far uscire questa regione dall'isolamento. Ecco dunque la necessità di avere un'autostrada che vada da Termoli a San Vittore e che queste possano essere da collegamento a queste due realtà. Cultura, turismo, enogastronomia. Tre elementi sui quali il Molise deve continuare a scommettere. I recenti successi alla Borsa del Turismo di Milano testimoniano come la valorizzazione del comparto possa generare ricchezza. È un settore che noi dobbiamo assolutamente potenziare perché garantirebbe il PIL di questa regione. Ma devo dire che alla Bitta abbiamo avuto un grande successo. C'è stata molta attenzione verso la nostra regione. Ci sono stati numerosi stakeholder che hanno cercato di capire e di carpire cosa fosse il Molise e il Molise esiste. Questo ha dato la possibilità di far conoscere il nostro Molise ma soprattutto di far conoscere i 136 comuni con le loro pecuniarità e soprattutto con le loro attrattività fatte di semplicità, di borghi, di gente buona che accoglie in maniera amorevole il turista.